Una bella collaborazione tra l'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila guidata dal presidente Rinaldo Tordere e la Galleria Iubic del gallerista antiquario Gianluca Iubic, che ha nel cuore della città Palazzo Cipolloni una bellissima e raffinata casa d'aste. Tre allievi delle Belle Arti stanno svolgendo uno stage nella galleria, volto a catalogare tutte le opere presenti per realizzare un catalogo e organizzare così le aste della galleria stessa. Si tratta di un'attività pratica molto importante e gradita agli studenti, che permette loro di approcciarsi al mondo concreto dell'arte, in modo organizzato ed efficace. L'esperienza lavorativa ovviamente sul campo cambia drasticamente l'approccio con la materia stessa che purtroppo anche col periodo del Covid, essendo limitato alla parte digitale, la pratica si è potuta fare molto poco. Il nostro ruolo all'interno della casa d'asta è quello di catalogare le opere che ci vengono fornite tramite lo shooting fotografico, una post-produzione delle stesse immagini e successivamente magari la creazione di un catalogo sia digitale che cartaceo, in vista delle aste. Soprattutto per noi giovani questo periodo è stato veramente molto buio, quindi di conseguenza avere, secondo me, questa opportunità è fondamentale, soprattutto per noi giovani che magari abbiamo perso, diciamo, un po' le speranze. Quindi il fatto che ci siano queste riaperture, queste possibilità, penso sia una delle cose migliori che possa capitare. La Galleria è uno schegno d'arte meraviglioso di opere antiche, moderne e contemporanee, impreziosita dalle stanze affrescate del palazzo che la ospita, uno dei più prestigiosi del centro. La Galleria è anche la prima casa d'aste di opere d'arte in Abruzzo. Ci sono quadri di autori che vanno dalla fine del Quattrocento alla fine dell'Ottocento, dipinti di artisti come Patini, Carracci, Trevisanio e Morelli, ma anche opere di arte moderna dagli anni Quaranta agli anni Ottanta, come quelle di Lucio Fontana. Tra le opere più importanti c'è il dipinto di Teofilo Patini, lunga attesa, del 1886. Quadri e dipinti, ma anche mobili, che vanno dal Rinascimento ai primi dell'Ottocento, sculture, divani, poltrone, lampade e ceramiche ricercate in maniera certosina da Iubic. In questo momento stiamo proprio facendo una collaborazione, una sinergia con l'Accademia delle Belle Arti, proprio per arrivare al primo appuntamento che sarà per il mese di ottobre, della prima asta di arte moderna e contemporanea, a seguire con un calendario. Faremo antiquariato e poi oggetti arredi antichi e poi preziosi e via discorrendo. Con la collaborazione di un ex manager aquilano, Angelo Fragassi, e dell'antiquario ex romano, diciamo, Walter Piccirilli, il nostro obiettivo è quello di creare una sorta di catalogazione di tutte quante le opere che poi verranno presentate.